Le notizie dal territorio ben ritrovati, andiamo subito a Manfredonia dove dopo gli autotrasportatori anche i pescatori della Capitanata incrociano le braccia a causa dell'aumento del costo del carburante. Guadagniamo di più restando nel porto, dicono ad Antonella Davola. Ovviamente a queste condizioni non possiamo più uscire, non possiamo proprio più andare a lavorare. Quindi devono per forza prendere un provvedimento che ci consente di riprendere e andare a lavorare. E' in corso uno sciopero ad oltranza dei pescatori di Manfredonia che nelle scorse ore hanno consegnato le proprie licenze agli uffici marittimi di competenza. Il caro gasolio, fanno sapere, non permette più di sostenere l'attività di pesca e il comparto ha deciso di fermarsi. Guadagniamo di più restando fermi in porto, affermano chiuso anche il mercato ittico. Dopo gli autotrasportatori dunque anche i pescatori incrociano le braccia a causa di un aumento del costo del carburante per i motopescherecci che da 30 centesimi al litro è passato ad oltre un euro in poche settimane. Noi vorremmo un piccolo contributo, degli incendivi come hanno fatto in Francia. Cioè si potrebbe fare un contratto con un lungo termine che noi potremmo pagare il gasolio a 50-60 centesimi. Ma non è che noi vogliamo arricchire, noi vogliamo solo lavorare, noi non vogliamo niente dallo Stato. Dobbiamo cercare solo di metterci in condizioni di lavorare. Proprio noi la categoria dei pescatori già facciamo un lavoro usurante e voi facciamo più di 92-93 ore in mezzo al mare. Pensavamo che si rimanesse 60-65 ma a questo prezzo qua, che ogni giorno, ogni ora abbiamo notizie in tutta Italia. Lampedusa 1,32, Molfetta 1,28. Non riusciamo a guadagnare abbastanza né per pagare il gasolio né per pagare i marittimi. Restiamo in tema perché non ci sono solo i pescherecci fermi nei porti. In attesa delle misure del decreto energia, anche i baresi alle prese con i prezzi alle stelle del caro carburante. Al self-service si risparmia qualcosina? No, che si risparmia. Pochissimo si risparmia. Sono andato a Roma e ho speso 315 euro di gasolio, mille chilometri. Il caro gasolio impatta sulla vita di tutti i giorni. Sui social ci sono frasi, meme che paragonano un pieno di benzina al costo di una bottiglia di Dom Perignon. Sarà veramente così? Siamo andati a chiederlo proprio ai cittadini, a coloro i quali usano la macchina per lavoro, per spostarsi tutti i giorni. Sta facendo benzina? Con questi prezzi è assurdo andare avanti. Prima quanto le durava un pieno? Durava 10 giorni, 15 giorni. Adesso è incredibile, è incredibile. Con questi prezzi, mamma mia. Quanto ha fatto? 10 Le basta per quanto tempo? Insomma, giusto un'oretta. 20 Quanto le basta? Ma niente, ora arriverò a Bari e sarà già terminata. 10 E quanto le basta? Niente Sta facendo il metano, risparmia qualcosina. Sì, dovremmo risparmiare qualcosina. Però anche il metano è aumentato? Lo so, lo so, è aumentato sì. Però forse meno rispetto a quello che sia benzina e gasolio. Ma dobbiamo lavorare, che dobbiamo fare? Se stiamo a casa non prendiamo un euro e quindi paghiamo questa benzina. Andiamo piano piano con la macchina. Ci proviamo. E a causa dei rincari si rischia anche il blocco della produzione agricola. L'appello urgente lanciato dall'associazione di categoria Lega Coop. A questo appello risponde la regione con un bando per puntare alle energie rinnovabili. I costi della produzione agricola sono insostenibili e gli imprenditori, in mancanza di risposte, sono pronti a bloccare la produzione della prossima stagione. È l'allarme lanciato dall'Ega Coop Puglia. Durante la quarta commissione agricoltura, presieduta dal consigliere PD Francesco Paolicelli, si è tenuta in regione l'audizione richiesta dal presidente Lega Coop Carmelo Rollo per fare il punto sulla strategia di contenimento dei costi energetici. Abbiamo accolto subito l'invito di Lega Coop, ha commentato Paolicelli, precisando che l'aumento dei costi delle materie prime e i rincari delle bollette sono una realtà che ormai riguarda tutti. Rollo chiede una strategia che vada oltre i ristori. Capirete che i costi si possono tranquillamente moltiplicare e quindi possono diventare veramente un problema rispetto alla produzione. Abbiamo fatto una verifica, spiega Rollo, un percorso di ascolto dei soci, delle cooperative che hanno messo in luce non soltanto i costi legati agli anticrittogamici e concimi, ma anche quelli pesantissimi necessari per l'utilizzo delle risorse idriche, che richiede in media una quantità di energia di 40 kilowattora. Rollo chiede anche di avviare un percorso di programmazione reale, realizzando una piattaforma del sistema agricolo per fornire risposte immediate. E soprattutto è urgente, spiega, puntare alla sostenibilità energetica. Come Regione Puglia vogliamo spingere le imprese in questa direzione, ha risposto l'assessore allo sviluppo economico, Alessandro Dell'Inoci. Oggi discuteremo nel partenariato economico-sociale questa opportunità che stiamo modificando in un bando che presenteremo nei prossimi giorni e che abbiamo intenzione di incentivare l'autoconsumo energetico sui detti delle imprese. Un altro bando che è relativo al PNRR è che riguarderà il solare sopra i detti delle imprese agricole, così come oggi sollecitato da Lega Cooperative. A Puglia Film Commission operativa al 100%, le rassicurazioni sono arrivate dopo la contesa interna alla fondazione che solo fra il 2020 e il 2021 ha portato in Puglia oltre 70 produzioni. Antonio Bucci. A Puglia Film Commission operativa al 100% sembrerebbe un prerequisito se non fosse che le rassicurazioni sono arrivate dopo la contesa interna alla fondazione che soltanto tra il 2020 e il 2021 ha portato in Puglia oltre 70 produzioni. In tre componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati ascoltati nelle scorse ore dalla Seconda Commissione di Via Gentile il Vice Presidente Ettore Sbarra e i consiglieri Marina Samarelli e Carmelo Grassi con Presidente e DG in videoconferenza. Il messaggio è chiaro, la buferea alle spalle e il clima sereno. La prima aveva accusato il secondo di averla aggredita fisicamente durante una riunione di lavoro presentando una denuncia in procura. Parente dal canto suo ha sempre negato l'aggressione. Acqua passata. Le questioni personali a citare le dichiarazioni davanti ai consiglieri non sono più oggetto di discussione. Approvato il budget consuntivo, in via d'approvazione invece il documento contabile ripresa dal 3 febbraio scorso l'attività ordinaria con l'insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione. Primo banco di prova, l'organizzazione del Bifest, il festival cinematografico nei teatri di Bari dal 26 marzo al 2 aprile prossimi. Una breve di nera. Avrebbero smaltito illecitamente rifiuti pericolosi in alcuni terreni alla periferia di Adelfia. Nel Barese la Guardia di Finanza ha denunciato tre persone per reati ambientali e ha sottoposto a sequestro un'area di 4.000 metri quadrati. Risultata destinata allo stoccaggio abusivo di rifiuti pericolosi. Militari hanno sequestrato anche un autocarro utilizzato per il trasporto degli oli esausti durante una missione di telerilevamento. Come vedete dalle immagini, gli investigatori hanno individuato l'ampia area all'interno della quale c'erano cumuli di materiali di varia natura e uno scavo con evidenti sversamenti di liquami oleosi. La conseguente attività d'indagine, seguita anche mediante sopralluoghi, appostamenti, pedinamenti e videoriprese, ha consentito di individuare e denunciare a piede libero i tre presunti autori degli sversamenti. Aperto sì, ma solo sulla carta, Fratelli d'Italia chiama governatore e assessore palese sulle sorti dell'ospedale di San Severo. Mobilità passiva e medici in fuga, le conseguenze lamentano. Sentiamo. Aperto sì, ma solo sulla carta e di fatti verso la chiusura è la denuncia dei consiglieri regionali di Fratelli d'Italia davanti all'ospedale di San Severo, carenze che porterebbero all'epilogo inevitabile, sulle quali gli uomini di Giorgio Meloni chiamano, raccolta governatore e neotitolare della delega, l'ex compagno di Scranno Roccopalese. Denunciano reparti completamente abbandonati. È un organico ridotto all'osso sul quale grava per intero la garanzia degli standard del DM70 da mantenere. Tra le corsie di ortopedia, ad esempio, un solo medico, a fronte dei dieci previsti dal regolamento regionale vigente, e cittadini in cura, che spesso, fanno sapere, ricorrono alla mobilità passiva verso il Molise, geograficamente vicino, ma con tutti i danni economici conseguenti. Ginecologia registrerebbe gravi lacune nella pianta organica. A breve, di fatti, saranno soltanto tre i camici bianchi a prestare servizio. Stesso discorso per pediatria, con medici a convenzione, ma a costi altissimi, e per chirurgia, dove, lamentano, un solo medico opera una volta a settimana, con un altro effetto indiretto inevitabile, che di fronte alla mancata programmazione, nessun camice bianco investa in Puglia, preferendo trasferirsi in altre regioni che, al contrario, bandiscono concorsi a tempo indeterminato. Dopo sei settimane tornano ad aumentare in Puglia i casi Covid-19. Lo rileva il monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nella settimana dal 2 all'8 marzo, i nuovi casi sono lievitati del 12% rispetto a sette giorni prima, segnale di una ripresa della pandemia. La provincia di Lecce ha anche registrato il record di incremento in Italia, con 1.035 nuovi contagi ogni 100.000 abitanti, più 22% rispetto a una settimana fa, ma nonostante l'aumento in Puglia dei casi attualmente positivi per 100.000 abitanti, sono leggermente diminuiti i casi totali, che attualmente si attestano a 1.900. Andiamo a Bitrito, invece, dove è stato inaugurato un nuovo centro vaccinale dedicato ai bambini e agli adolescenti e che sorge in un bene confiscato alla mafia. Domenico Brandonisio. Arriva un nuovo centro per vaccini, è quello che è stato inaugurato a Bitrito alla presenza delle massime autorità istituzionali e sanitarie, evento peraltro accompagnato da applausi e consensi. La valenza simbolica dell'accaduto è decisamente importante, poiché lo stesso centro sorge in un bene che è stato confiscato alla criminalità. Rappresenta legalità, rappresenta sociale, rappresenta un servizio più di qualità per sanitario, per la cittadinanza e rappresenta un'altra cosa importante, una collaborazione tra enti e quindi tra il comune di Bitrito e la ASS, il comune di Bitrito che ha messo a disposizione questo bene incomodato gratuito è la ASS che ha investito e quindi da questo punto di vista sono orgoglioso e soddisfatto. Non è l'unico bene, stiamo investendo anche su altri beni, a breve inaugureremo il nuovo comando della polizia locale in un bene confiscato e un altro bene, stiamo partecipando ad una misura del PNRR. Il centro vaccinale sarà inoltre riservato alle somministrazioni per bambini e adolescenti. Questo è un centro che è atteso, è stato tanto atteso dai cittadini di Bitrito, è arrivata finalmente la giornata e il momento in cui l'abbiamo realizzato, io ringrazio il comune di Bitrito, il sindaco in particolare per aver messo a disposizione questa struttura, tra l'altro è un bene confiscato e noi l'abbiamo ristrutturato e quindi abbiamo attuato una sinergia comune ASS che ha portato a questo risultato. Di solito quando abbiamo queste sinergie, quasi sempre le abbiamo con le nostre comunità locali, riusciamo ad avere veramente dei risultati rapidi ed efficaci. Attivare trattamenti personalizzati per le persone colpite da sclerosi multipla, su questo tema ci sta lavorando il Policlinico di Bari. Attivare trattamenti personalizzati per le persone colpite da sclerosi multipla, analizzando gli studi e le sperimentazioni cliniche raccolte nel registro italiano a tema. Il Policlinico di Bari ha lavoro per farlo con la Clinica di Neurologia dell'ospedale per finanziare il progetto, nato nel 2014 con un accordo di programma tra la Fondazione Italiana per la Sclerosi Multiple e l'Università degli Studi del Capoluogo. Non a caso è arrivato anche lo stanziamento di 2 milioni di euro dal paniere dell'ultima legge di bilancio. Primo passaggio la racconta dei dati appunto di tutti i pazienti seguiti nei diversi centri italiani. Circa 2 mila i nuovi casi registrati ogni anno, nella maggioranza diagnosticati tra i 20 e i 40 anni. I numeri ottenuti con il registro finora hanno portato a ricerche pubbliche su riviste internazionali ad alto impatto, molte delle quali coordinate dal Centro Sclerosi Multiple di Bari, dove sono seguiti oltre 4 mila pazienti. Questo progetto, Registro Italiano Sclerosi Multiple, nasce addirittura all'inizio degli anni 2000, ma si è consolidato nel 2014, grazie ad un accordo quadro tra l'Università degli Studi di Bari e la Fondazione Italiana Sclerosi Multiple. Piano piano è diventata una realtà importantissima nel paese, in quanto raccoglie circa 70 mila pazienti, i dati di circa 70 mila pazienti, e sta andando sempre più a crescere. E attraverso i dati raccolti abbiamo potuto pubblicare una serie di lavori che sono stati di grandissima utilità per migliorare la terapia e la gestione dei pazienti con sclerosi multiple. L'assessorato al welfare invece del comune di Bari apre nelle scuole secondarie uno sportello d'ascolto contro il bullismo e il cyberbullismo. Azioni contro il bullismo e il cyberbullismo, con i numeri a quanto pare in crescita. Secondo i centri e gli sportelli d'ascolto dedicati, l'assessorato al welfare del comune di Bari mette in campo un nuovo progetto per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto delle povertà educative dei minori della città. Realizzato dalla società cooperativa Crisi, il progetto è rivolto a minori del territorio cittadino, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, e agli adulti, operatori sociali, insegnanti, educatori, volontari che si occupano di minori, genitori e famiglie. Non solo sportello d'ascolto, ma anche laboratori e gruppi di parola. Le attività di interazioni saranno svolte in rete con l'organizzazione di volontariato Anto Paninabella e una serie di partner nella scuola media Michelangelo, nel liceo scientifico Scacchi e nell'ITT Panetti Pitagora. Un progetto che verrà portato avanti dall'associazione della cooperativa Crisi insieme a una rete di realtà e lavorerà proprio per il consolidare delle alleanze fra il mondo, diciamo, extra scuola, la scuola, ma anche le famiglie e i docenti, ad esempio con la realizzazione di sportelli psicologici all'interno di scuole che hanno costruito con noi questo progetto, ma anche, diciamo, gruppi di parola fra adolescenti, perché uno dei bisogni che è fortemente emerso è dare spazio ai sentimenti, alle paure, ai dubbi, sia, diciamo, legati alle pandemia, ma anche legati ai bisogni relazionali. Restiamo nel capologo pugliese, perché tra qualche giorno Bari inaugura il parco della ex caserma Rossani, ma si prepara anche alla stagione sportiva con la DJ Ten, ad annunciarlo sui suoi canali social, l'assessore allo sport Pietro Petruzzelli. Sentiamolo. L'inaugurazione del parco Rossani come una grande festa è in grado di coinvolgere tutta la città. L'auspicio dell'assessore allo sport del comune di Bari Pietro Petruzzelli la data, quella del 20 marzo prossimo. Il titolare della Delega Ingiunta immagina una fossa da skate piena di ragazzi e ragazze, ma anche un torneo di minibasket o allenamenti di fitness. Obiettivo, insomma, a tenere vivi gli spazi, esattamente come per il ritorno di un altro evento. Dopo lo stop della pandemia, il 29 maggio, infatti, c'è la DJ Ten. Ormai abitudine consolidata per runners, spodisti, appassionati, ma anche semplici curiosi di tutte le età, si era interrotta due anni fa, travolta dall'emergenza sanitaria, ma è pronta a tornare. Sembrava impossibile poter tornare a correre tutti insieme e colorare il lungomare con migliaia di runners, affida i soci all'assessore e invece, per farlo, basterà aspettare ancora qualche settimana. Sarebbe bello se quel giorno ci fossero tante persone che praticano sport, non solo i cittadini, le persone che abitano qui vicino, ma magari anche delle associazioni, delle società sportive che vogliono venire per darmi una mano ad organizzare un torneo di minibasket, o degli istruttori che ci aiutano a seguire i ragazzi che scendono con la loro tavola nella fossa, o anche delle realtà che organizzano fitness all'aria aperta. Organizziamo la giornata del 20 con chi vuole esserci delle tante realtà sportive della nostra città. La pagina degli spettacoli, Il Dio Bambino, il nuovo spettacolo che vedrà protagonista Fabio Troiano. La prima nazionale andrà in scena nelle prossime ore al Teatro Curci di Barletta, del quale l'attore è anche il direttore artistico. Lo ha intervistato per noi Antonio Gargano. Tre giorni di grande teatro a Barletta con la prima nazionale del Dio Bambino, l'opera che vedrà il direttore artistico del Teatro Curci, Fabio Troiano, protagonista assoluto l'11, il 12 e il 13 marzo nella città della disfida, uno show che testimonia l'ormai forte legame tra l'artista e la location in cui si esibirà. Si sentiva l'esigenza e la voglia di far conoscere, far uscire dalla Puglia, dalla regione Puglia, il marchio Curci. Il teatro ovviamente conosciuto in tutta Italia perché ospita comunque compagnie da tutta Italia. Il testo è un testo meraviglioso di Gaber, il Dio Bambino, che racconta una storia d'amore. Quindi è un testo universale e una storia d'amore. E in questa storia d'amore si vuole puntare la lente del grandimento sull'uomo e capire se l'uomo ha la voglia e la forza di cambiare da eterno bambino a maturare. Quella di Troiano in scena al Curci è la definitiva occasione di rilancio in termini di affluenza dopo le nuove difficoltà legate al Covid e la cancellazione dello show di Capodanno dopo gli sforzi di tutte le componenti, anche politiche. L'entusiasmo torna palpabile anche grazie alla prima del Dio Bambino. La stagione teatrale qui al Curci sta andando benissimo. Sempre grazie alla presenza degli abbonati ma anche allo sbigliettamento. E quindi la voglia di tornare a teatro, di vedere rappresentazioni dal vivo e spettacoli dal vivo c'è. La necessità e l'urgenza c'è dopo questi due anni devastanti. Io ne sono felice e sono orgoglioso di aver fatto un cartellone che il pubblico di Barletta ha apprezzato molto. E dopo il successo editoriale cinematografico di Io che amo solo te e la cena di Natale, lo scrittore piemontese Luca Bianchini torna in libreria con un nuovo libro, questa volta un giallo sempre ambientato a Polignano ma con un nuovo protagonista. Sentiamo. Il maresciallo Gino Clemente dopo anni passati lontano da casa viene finalmente trasferito nel suo paese d'origine, Polignano a mare, a ridosso della festa patronale di San Vito che dall'inizio all'estate. Per l'occasione la famiglia allargata degli Scagliusi decide di celebrare il compleanno della piccola Gaia con una festa nella festa durante la quale però si commetterà un omicidio. Lo scrittore piemontese Luca Bianchini torna nell'amata Polignano a mare ma questa volta con un giallo. Il suo nuovo protagonista è il maresciallo Clemente ma sullo sfondo restano sempre Ninella e Don Mimì, protagonisti dei precedenti volumi Io che amo solo te e la cena di Natale, successi editoriali e cinematografici. Sono tornata a Polignano sul luogo del delitto e per una volta veramente c'è un delitto. Mi sono lanciato in un esperimento nuovo, un giallo, perché ero chiuso in casa col covid, la pandemia e quindi l'unico viaggio che potevo fare era con la fantasia, per cui mi sono lanciato in questa sfida e ho detto ho bisogno di amici e i polignanesi sono sempre i miei amici, i polinesi in generale, per cui già che era una sfida difficile ho cercato un luogo di conforto. Come mai questa volta si è affacciato a un genere diverso dal solito, a un giallo? Un po' perché io sono ambizioso e un po' perché mi stufo a fare sempre le stesse cose e poi ho detto ma qua tutti scrivono gialli e io no, ma io non ne avevo mai scritti neanche letti troppo per cui mi sono solo ripassato un po' di Agatha Christie e infatti a lei in suo onore che è un personaggio, la brigadiera, si chiama Agatha de Raza che però qua è Salentina e mi sono, devo dirvi, divertito. Scatta l'operazione Vota Vico. Dal 13 marzo la corsa al concorso nazionale Borghi dei Borghi. Il piccolo comune del Foggiano sarà l'unico a rappresentare l'intera Puglia. Domenica 13 marzo ore 18.40 e questo è il momento a partire dal quale si potrà votare per Vico del Gargano, uno dei 20 paesi d'Italia in provincia di Foggia e l'unico della Puglia che concorrerà al titolo di Borgo dei Borghi concorso organizzato dalla rete I Borghi più belli d'Italia e da Chilimangiaro trasmissione in onda ogni domenica su Rai 3. Vico del Gargano nei mesi scorsi ha superato le preselezioni e è arrivato in finale per rappresentare l'intera regione. È un onore rappresentare tutta la Puglia, ha dichiarato il sindaco Michele Sementino. Il concorso si tiene dal 2014 ma nessuna località pugliese è riuscita finora a vincere la finale e portare a casa il titolo di Borgo dei Borghi. La gara è importante ma lo è ancora di più avere la possibilità attraverso essa di promuovere la Puglia, naturalmente a partire da Vico, dal Gargano e dalla provincia di Foggia, ha aggiunto Sementino. Le riprese registrate dalla truppo mostrano il mare del Gargano, la foresta Umbra, le produzioni di pregio dell'agroalimentare di Capitanata, i luoghi che migliaia di foggiani, sanseveresi, cerignolani, lucerini e manfredoniani sentono loro perché li frequentano da sempre e fanno parte della loro vita. Vico del Gargano, San Menaio e Calenella fanno parte di quel patrimonio condiviso e amato da tutti. Per questo, ha concluso il primo cittadino di Vico del Gargano, ci auguriamo un sostegno diffuso e massiccio della nostra provincia ma anche del resto della Puglia che ci onoriamo di rappresentare. Una docu-serie per fare promozione turistica. Il Comune di Monopoli lancia l'idea mettendo al centro la città e i suoi operatori. Da mercoledì prossimo, 16 marzo, 5 puntate dedicate a temi diversi. Promuovere il territorio attraverso una docu-serie per il web. Questa è l'idea del Comune di Monopoli che per farlo ha investito la tassa di soggiorno richiesta ai turisti. Un modo virtuoso di reinvestire quanto arriva dal turismo in favore della città e dei suoi operatori. Albergatori, ristoratori, proprietari di attività ricettive e commerciali e tutta la città beneficeranno del risultato e del prodotto video che, distribuito sul web, avrà portata nazionale e internazionale dato che è disponibile sia in italiano che in inglese. Da mercoledì prossimo, 16 marzo, per 5 mercoledì di fila, saranno svelate le puntate, ognuna delle quali dedicata a un tema diverso. Non un semplice spot di Monopoli, ma un nuovo modo di comunicare e di fare promozione turistica. Un format che mira a promuovere il territorio coinvolgendo i target di riferimento 365 giorni all'anno. La docu-serie si rivolge sia agli utenti digitali che ai visitatori reali con un forte impatto emotivo ed esperenziale. Oltre alla docu-serie ci sono le tip-guiz, 30 video di 30 secondi ciascuno, che indicano il tesoro nascosto, un luogo, un sapore, un evento, una tradizione da scoprire ed un podcast di 5 puntate di approfondimento storico-culturale su Monopoli, pubblicato su Spotify. È in chiusura una breve di giudiziare appena battuta dalle agenzie. La Banca Popolare di Bari ha patteggiato una sanzione pecuniaria di 240 mila euro nel processo barese in cui è imputata per la responsabilità amministrativa degli enti con riferimento ai reati di ostacolo alla vigilanza e false comunicazioni sociali contestati a tre amministratori. La proposta di patteggiamento è stata confirmata dalla Procura e depositata oggi durante l'udienza preliminare sulle cosiddette operazioni baciate che si sta celebrando in Fiera delle Avanti a Bari dinanzi al gruppo Marco Galesi. Rischiano il processo l'ex condirettore generale Gianluca Iacobini, Giuseppe Marella e Nicola Loperfido, rispettivamente ex responsabili dell'International Audit e della direzione business dell'Istituto di Credito. Con questa notizia chiudiamo questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per averci seguito e buon proseguimento di giornata.